Ieri Gwendalina Tavassi ha testimoniato nel processo contro l'ex marito Umberto da Ponte. Le rivelazioni che arrivano dall'aula di tribunale sono ancora più dettagliate e, purtroppo, risalgono a molto tempo prima che iniziasse la guerra social tra l'uomo. Gwendalina ha abituato i suoi fan a vederla sorridente. Sembrava felice anche con lo stesso Umberto invece quando Instagram era spento succedeva di tutto. Il messaggero ha riportato una parte delle dichiarazioni della Tavassi in tribunale. Umberto da Ponte è accusato di maltrattamenti in famiglia. Lesioni aggravate e danneggiamenti. Gwendalina ha raccontato un vero e proprio incubo. Cominciato ben prima della separazione. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha parlato di tradimenti e aggressioni. Ha temuto anche per i suoi figli. Tra i vari episodi raccontati ci sarebbe anche un inseguimento con una mazza da baseball. E mi ha preso abbastonate in te. Quindi ha raccontato anche che le avrebbe rotto il naso lanciandole contro le chiavi della macchina. Ed era già apparsa con un occhio tumefatto. Per convincermi a non lasciarlo affinto di avere un attacco epilettico davanti ai nostri figli. Queste le parole in aula di Gwendalina. I figli Salvatore e Chloe sono nati dalla relazione tra Gwendalina e Umberto e pare abbiano assistito a tutto questo. Erano presenti anche quando da Ponte ha picchiato Federico Perna. Il nuovo compagno dell'influencer. L'episodio sarebbe avvenuto davanti ai bambini e Umberto è finito in carcere per tre mesi. Anche per aver violato un ordine restrittivo. Gwendalina Tavassi e l'ex Umberto da Ponte sembravano vivere un amore da favola. Invece tutto sarebbe degenerato soltanto due anni dopo l'inizio della relazione. Quindi intorno al 2015. Questo perché prima della nascita del secondo genito. Umberto andava a Roma solo nei weekend. Poi si è trasferito e. Sono iniziati i problemi. Queste le parole della sorella di Edoa. Svariati tradimenti ed episodi di violenza dovuti alla gelosia era un continuo minacciarmi e denigrarmi anche davanti ai bimbi. Mi diceva che dovevo morire. Nel 2017 lui dormiva e mi è arrivato un messaggio di una ragazza che mi riferiva di averlo visto con un'altra. Abbiamo litigato e ha spaccato il vetro della finestra. Che è finito nella culla del bambino. Che ha iniziato a piangere.